e vai io che incontro solo cadaveri e vai ne ho ucciso uno e vai ragazzi festeggiate oggi 26 aprile ho ucciso un umano con l'aiuto di un altro alien che ha dato la vita per farmi uccidere quell'umano perchè se no da solo non ce l'avrei mai fatto aia no devo cambiare documentario farò bear grill no non so che sia vi insegnerò la sopravvivenza dell'alien allora vi trovate in congo con un pacchetto di patatine vuoto degli artigli pronti a uccidere qualcuno una coda gigante cosa potete fare e beh la cosa più ovvia sarebbe uccidere ma perchè uccidere quando puoi mangiare le foglie che ci sono per terra perchè sono ricche di proteine eh l'ho ucciso l'ho ucciso e vai e le proteine che carica eh tanto noi stiamo a guardare è esploso sono esplosi entrambi va bene come vedete la dura legge del più forte la sopravvivenza solo al più forte e infatti io sono morto chi è che sta vincendo ah stanno vincendo i marine i predator seguono a ruota e gli alien appena si alla fine siamo un po' tutti punteggio vicino si la partita è ancora tutta da giocare per gli altri ah no per me io sto solo documentando l'epica battaglia che ci sarà fra umani predator e alien dove cazzo sono l'ho ucciso così a caso cioè si così a caso volevo dire che avevo già premeditato tutto eh anche la mia morte l'ho fatta fare a un umano così perchè era da un po' che non uccideva allora oh cazzo dai ah si può cambiare visuale della telecamera non lo sapevo vedete non si smette mai di imparare con i miei documentari ahi 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 ah Adesso ho un nuovo sogno Non è più fare documentari E vai ho ucciso uno Adesso il mio nuovo sogno È vincere la maratona Che ci sarà Domani Sul mio pianeta Guardate come sono veloce Sì Sfreccio nel buio Come sono morto Ma come sono morto Ditemi come sono morto Adesso voi tornate indietro Nel video Tornate indietro e mi dite come sono morto Perché lo voglio sapere Così sono scomparso ancora una volta Oh cazzo Oh cazzo Ok Predator deficiente Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Scappavo da due predator Mi sono trovato un umano davanti Cos'è? Luce! Oh finalmente Al buio Questo? Boh Siamo Dove sono? Ok Sei qui No Sei qui Sì Dai che sei mio Sei mio Sei mio Sei mio No Perché? Perché? Che cosa vi ho fatto? La mia è una malattia Eh lo so Non ve l'avevo mai detto Ho già fatto una trentina di video Non ve l'avevo mai detto Perché Speravo non si notasse Ma la mia malattia è che ho Le calamite per proiettili Super il culo E quindi Quando sparano I proiettili arrivano a me In qualsiasi modo E quando seguono la calamita Diventa Molto doloroso Dai Dai che scappo Dai che scappo Vedete Il maestro di sopravvivenza Con uno Scriciolo di vita Sono riuscito A scappare Eh beh Eh beh La mia è un'arte Ok Andiamo va Cazzo sto facendo Ok Ah ne approfitto già adesso Per Ringraziare Tutti Ma perché Non riesco a prendere Nessuno Ma perché Perché Comunque ne approfitto Per ringraziare Sempre i miei Iscritti Iscritti al mio canale Sì Spariamo a caso E vai Sono morto E I miei Dieci Ben Dieci iscritti Vi ringrazio Questo è mio Rar Ok E Nient'altro Sì Beh Quelli che mi danno Vabbè Quelli che guardano i miei video Chiunque Anche tu che in questo momento Stai guardando il mio video E stai pensando Sta parlando proprio di me Sì Sto parlando proprio di te Già che ci sei Mi stai ascoltando sicuramente Metti un bel mi piace Al video Condividilo Commenta se ti è piaciuto E soprattutto Iscriviti al mio canale Va bene Tranquilli che poi Il video tutorial Su come iscriversi a un canale Ve lo faccio E vai Naturalmente al mio canale Perché Anche se ci sono Tanti bei canali di E vai Un altro Ci sono tanti bei canali Di gameplay Aia Se girate un po' Su youtube Vedrete che ci sono Canali Molto Molto divertenti Molto belli Sì Dai che uno me lo porto Dai Ok Che cazzo è Ma che cos'era Ah era la mia malattia Sì Eh sì Eh mi sono mosso un po' troppo E le calamite nel culo Hanno iniziato un po' a Farsi sentire Quindi Il mio personaggio Ha iniziato un po' a urlare E Un po' a urlare Un po' a urlare Bravi Sì 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 Sono un inseguitore Ma tanto è finita la partita Sopravvivo No Sono morto Ancora una volta Sono scomparso Nelle tenebre Ma Quanto dura Oh mio Ah no Ok No è fra un minuto È finita Tranquilli ragazzi So che Questo video Sarà un Un po' lungo Però Cosa ci posso fare Se la partita Non finisce Non finisce Mi sembra Mi sembra anche Aia Mi sembra anche un po' brutto Poi Per fare video Più corti Interrompere una partita Così Allora Faccio arrivare fino alla fine Poi i video li taglio Allora Vorrei sapere cosa ne pensate Di questo gioco Scrivetemelo Nei commenti Se la pensate come me Se questo gioco è bellissimo Oppure se non vi piace Perché Non lo so Se Potete sapere i motivi Ok Lo scopo dei miei gameplay È farvi conoscere naturalmente i videogiochi Tipo Alien vs Predator Per chi non li conoscesse E poi Urca E poi Soprattutto Accendere anche dibattiti Che è bello magari discutere Di Aia Eh Sono avanzato di grado Addirittura 31 uccisioni Eh 31 Vabbè E Accendere dicevo Discussioni su Cioè non discussioni Violente O con insulti O cose del genere Discussioni su A me piace questo gioco Perché A me non piace questo gioco Perché Questo Poi naturalmente ogni gioco Ha i suoi alti I suoi bassi Eh Comunque Questo video finisce qui Eh Noi ci vediamo Domani Forse Non lo so Perché questo video lo pubblico domani Che è venerdì Quindi Non lo so Vabbè Devo ancora vedere Eh Noi ci vediamo Probabilmente domani Non lo so Devo vedere E con un nuovo video Eh Credo di Bad Company 2 Credo Commentate Mettete mi piace Eh Condividete Su facebook O su altre Su altre Social network Non lo so E Soprattutto Iscrivetevi al mio canale Eh Niente Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti